Bentornati fratelli di Tuberanza, eccoci nell'alpha di Evolve Allora fratelli, quest'alpha sta avendo dei problemi immensi Ovvero che i caricamenti delle partite e matchmaking durano veramente all'infinito Allora oggi ragazzi, prima di questa la partita era effettivamente avviata Adesso sembra che i giocatori vengano trovati e quindi si può giocare Io non aspettavo altro ragazzi che portarvi un gameplay di Evolve Quindi ci sto provando Vediamo che cosa riusciamo a fare Tra l'altro vediamo che uno è già a livello 18 quindi non so da quant'è che gioca Spieghiamo che cos'è Evolve Allora ragazzi, questo gioco è il nuovo capitolo di casa 2K Quei sono gli stessi che fanno gli NBA 2K E quindi ragazzi, questo gioco ha vinto un botto di premi Cioè alle 3 a Colonia ha vinto i peggio premi dalla critica Allora ragazzi, io siccome l'ho già provato a Tokyo Non mi rimane che farvelo vedere anche a voi Questa volta posso registrarlo tranquillamente dentro la camera mia Voi lo vedete e lo valutate Non so quanto possa durare questo gameplay Però ragazzi, io non voglio tagliare nulla Perché vorrei che voi vi godeste tutta quanta l'essenza vera e propria del gioco di Evolve Perciò fratelli, magari se non siete tanto interessati O saltate il video, vedetelo a saltelli Però comunque io cercherò di non tagliare Certo che se verrà di mezz'ora, qualche minuto Lo taglio perché altrimenti sarebbe una tortura cinese Ok, siamo a The Damn Allora ragazzi, in questo gioco Voi dovete fare attenzione ad ogni piccolo particolare Se non siete la bestia, che siete cacciatori Dovete fare attenzione sia alle orme per terra Sia agli stormi di uccelli che volano Perché comunque quando uno stormo di uccelli è impaurito È perché effettivamente ha visto, sentito qualcuno o qualcosa In questo caso hanno sentito la bestia Quindi quando vedete lo stormo di uccelli che scappa È perché lì effettivamente c'è stata la bestia Adesso ragazzi io vedo che qui si è bloccato il caricamento della mappa Waiting for players to load Ah, sta caricando L'audio va e viene No, 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 no ragazzi C'è Terribile Terribile Cioè sono terribile Culo rotto Allora fratelli, io sono la bestia No, com'è? Danno Ah, il fuoco Utilissimo, molto utile La carica Anch'essa utile Increase clip By 30% Uh ragazzi, che bestia Sono io il Goliath Veramente Ragazzi, io lo speravo da morire Allora Beh, boom Cioè ragazzi, io speravo da morire di essere la bestia Eccomi qui Allora Sarebbe l'abilità del radar per vedere se ci sono cacciatori Poi qui Poi qui posso cacciare Attenzione ragazzi Perché io Ah Io devo cacciare altre bestie Per poter Evolvermi Minchia che salti Bellissimi BAM Non è che zompi ragazzi E qui Uccidono le bestie Uccidere le bestie selvatiche Per potersele Bagnare Quali carica Perfetto ragazzi Allora Io Non pensavo Di riuscire Ad avviare un gameplay Come non pensavo Di essere io La bestia Allora Con L1 Facciamo il fuoco Run Ecco qui Vedete come corro No però Allora Eh no Eh no Eh no Ho sprecato anche Eccoci Perfetto I poteri si ricaricano Innanzitutto Ah i sensi Dell'animale Vedete Oh e là 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 c'è una C'è Come faccio a salire Ma Ma dai Ecco qui Ok Ok devo prenderla Con R2 E dai E vieni qua Pezzaccia Di merda L2 Per mangiare Perfetto Ce la mangiamo Ok Ci manca Eh Tre quarti Della barra Per poterci evolvere Quindi Usiamo un attimo I sensi di animale Presto Presto Smeal Oh cazzo I cacciatori Porca puttana Porca Porca troia Menagli 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 Mena 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 Con che cazzo si mena Ma dai Ma io non ho capito Con che mena Niente Niente raga Ci conviene Scappare Perché è meglio È meglio È meglio È meglio È meglio Cazzo le trappole Aveva piazzato Quel bastardo Allora Proviamo a mangiarci Un'altra Non posso mangiare Se ci sono Sti facce Di merda Mena 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 Dai L'ho preso L'ho preso Boom Dai 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 Che ho quasi ucciso Sì Ho ucciso Un cacciatore Fratelli Ottimo 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 Mamma mia Ragazzi Ragazzi Oh ma Ragazzi Io devo scappare Porca Eva Io me ne devo andare Io devo scappare Ci sentiamo Io vi saluto Me la mamma mia Ma mi magno Sta preda Ragazzi Perché Ok Sono riuscito A scappare Dai cacciatori Meno male No Chi è Oh Ah cazzo Ma Mi ha rivisto Di nuovo Via 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 Scappa Oh e dai Ma perché sono bloccato Sono bloccato da qualcosa Ragazzi È finita la mappa Allora ragazzi Il fine della mappa Potrebbe essere Molto fastidio Ah no È una barriera Ah vaffanculo I cacciatori ragazzi Hanno vinto Maledizione Ah fratelli Il gioco Potrebbe essere Veramente una figata L'unico problema Ragazzi È che I tasti Sono scomodissimi Probabilmente Su pc Sarà meglio Perché Niente Su pc Sarà meglio Per il semplice fatto Che con la tastiera Sappiamo tutti Che Questi giochi Qui Più comodi Da giocare Niente Oratelli Mi dispiace Che io Sia stato Abbastanza Muto Durante il gioco Il match è durato Praticamente 12 minuti Mi dispiace Di essere stato Abbastanza Muto E niente Io Vi do l'appuntamento Con il prossimo video E Boh Non so Mi ha lasciato un po' L'amare in bocca Queste volve Ci vediamo Con il prossimo video Ciao Abbastanza Grazie.